Buongiorno, possiamo dissolvarla? Andando all'incontro? Sì. Dove? Buona giornata. Cosa si aspetta? Insomma Berlusconi è stato abbastanza chiaro, niente draghi. Abbiamo detto ieri quello che noi pensiamo che è uguale a quello che abbiamo sempre detto. Quello che ora, che non c'è il nome di Berlusconi in campo e nel centrodestra, nel centro già, insomma centrodestra non ha diritto di predazione per via dei numeri, ci si possa sedere e condividere insieme un nome votato dalla più ampia maggioranza possibile. Questo nome deve venire dal centrodestra comunque. Io dico che è un nome che deve rappresentare la più grande maggioranza possibile. Buongiorno. Casini può essere un nome? Buongiorno.